In Sardegna il caldo torrido torna a farsi sentire con temperature che supereranno i 38 gradi nei prossimi giorni, come segnalato dal sito ilmeteo.it. Il fine settimana sarà caratterizzato da un'ondata di caldo intenso dovuta all'alta pressione africana che riporterà lafa e condizioni di sole prevalente su gran parte dell'isola. Nonostante ciò, nelle ore pomeridiane sono attesi rovesci di calore nelle zone interne e montuose, con possibili temporali locali. L'instabilità sarà più probabile sui rilievi, mentre le coste vedranno un predominio di giornate calde e soleggiate, rendendo il clima ideale per il turismo balneare, ma con temperature elevate che richiederanno precauzioni. Registrato il primo caso umano di West Nile del 2024 in provincia di Oristano, un uomo di 77 anni di Santa Giusta è ricoverato all'ospedale San Martino con sintomi di febbre e confusione mentale. Le sue condizioni sono stabili e non in pericolo di vita. Sentiamo i dettagli. Un uomo di 77 anni residente a Santa Giusta è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo essere risultato positivo al virus della West Nile, il primo caso umano registrato nella provincia nel 2024. Il paziente è arrivato in ospedale con febbre alta, confusione mentale e problemi intestinali e solo dopo alcuni giorni di accertamenti è stata diagnosticata la presenza del virus della febbre del Nilo. Le condizioni dell'uomo sono stazionari e non corre pericolo di vita, come spiega Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL numero 5 di Oristano. Le condizioni sono stazionari e il paziente è in miglioramento comunque rispetto all'ingresso in ospedale stesso. Le autorità sanitarie hanno immediatamente avviato le procedure di contenimento per prevenire la diffusione del virus in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Sono state messe in campo azioni di sanificazione dell'area circostante, l'abitazione del 77enne e in tutto il territorio comunale. Per prevenire il contagio è importante adottare alcune precauzioni. Il controllo è lotta contro le zanzare che deve essere fatta naturalmente e fisicamente con l'utilizzo del repellente antizanzare, soprattutto la sera all'imbrunire. La zanzara è una zanzara che punge soprattutto all'imbrunire e quindi in questo caso bisogna usare i repellenti. Usare vestiti sempre chiari perché la zanzara non è attratta dal colore chiaro ma dal colore scuri. Inoltre all'interno delle proprie abitazioni usare le zanzariere, logicamente avere le zanzariere, questo è fondamentale. E poi non lasciare ristagni d'acqua all'esterno della casa ma neanche all'interno. Quindi le ciotole, i sottovanzi, le ciotole del cane eccetera devono essere sempre svuotate. Nei giorni scorsi in alcune cornacchie abbattute a San Veromilis è stato rilevato il virus della West Nile. Mentre a Oristano su un pool di zanzare catturate sono stati riscontrati sia il virus della febbre del Nilo che l'usutu virus. Già nel 2023 la provincia aveva visto alcuni casi di West Nile tra uomini e animali oltre a segnalazioni dell'usutu virus in diverse località. Ieri sera intorno alle 21.30 una squadra dei vigili del fuoco di Sassari è intervenuta in via Prati per un'operazione di soccorso a persona. L'intervento richiesto dalla sala operativa del 118 aveva lo scopo di agevolare il trasporto di un paziente a causa di difficoltà logistiche. Per completare l'operazione è stato necessario l'uso di un'autoscala e tecniche SAF che hanno permesso di calare la persona dal terzo piano dell'edificio. Il paziente è stato poi affidato alle cure del 118 e trasportato al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per gestire la viabilità. Con l'assegnazione dei primi alloggi universitari a settembre da parte dell'ERSU prende vita la nuova cittadella universitaria nell'ex Geovillage di Olbia per iniziativa degli Atenei di Cagliere e Sassari ma anche del Cipnes Gallura. Gian Domenico Mele Prende forma la nuova cittadella universitaria di Olbia. Sono stati infatti aperti i bandi dell'ERSU per l'assegnazione degli alloggi universitari nell'ex Geovillage per l'anno accademico 2024-2025. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 2 settembre 2024 per l'ERSU di Cagliari e il 6 settembre 2024 per l'ERSU di Sassari. Gli alloggi del Geovillage allestite del Cipnes Gallura hanno l'obiettivo di fornire agli studenti universitari un ambiente moderno e funzionale. Le camere disponibili sono sia singole che doppie, tutte con bagno privato. Gli studenti possono inoltre usufruire di spazi verdi, campi sportivi e altre strutture ricreative. La maggior parte degli alloggi sarà assegnata tramite i bandi ERSU di Sassari e Cagliari. Tuttavia per coloro che non rientrino nei bandi sono disponibili ulteriori opzioni contattando direttamente il Cipnes Gallura. L'iniziativa del Cipnes Gallura di riconversione di una parte del Geovillage per l'ospitalità universitaria è stata finanziata con oltre 2 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca con fondi PNRR e rappresenta un passo significativo per promuovere l'istruzione superiore in Gallura e consolidare Olbia come centro universitario di eccellenza. Di fatto l'ex hotel 4 Stelle è diventato un campus universitario. A partire dal prossimo anno accademico Olbia ospiterà due nuovi corsi di laurea, quello di ingegneria navale dell'Università di Cagliari ed infermieristica dell'Università di Sassari. Questi corsi si aggiungono ai programmi già esistenti offerti dall'Università di Sassari che includono Economia e Management del Turismo, Economia Aziendale e Curriculum Tourism Management, Innovation Management for Sustainable Tourism. Tutto pronto per la manutenzione stradale su Viale Marconi tra Cagliari e Quarto. Il progetto finanziato con circa 2,5 milioni di euro prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all'altezza di via Maiorana, la ripavimentazione dei marciapiedi e la costruzione di una pista ciclabile. Sentiamo Daniele Chirico di UTG. I lavori di manutenzione stradale in Viale Marconi inizieranno verso metà settembre. A confermarlo è la città metropolitana di Cagliari che ha preso in incarico l'opera di realizzazione in accordo con i comuni di Quarto e Quartuccio, grazie ad un finanziamento di circa 2,5 milioni di euro derivanti dai fondi di sviluppo e coesione. Nel dettaglio il tratto di strada interessato va da Via De Gasperi a Quarto fino al Carrefour. La vera novità riguarda la realizzazione di una rotatoria all'altezza di via Maiorana, strada che attualmente non è ancora asfaltata e che in occasione dei lavori verrà completata per consentire agli automobilisti una nuova inversione di marcia svolta per raggiungere il centro commerciale. Verrà quindi eliminato l'attuale semaforo. In aggiunta ci sarà anche una ripavimentazione del marciapiede e la realizzazione di una pista ciclabile lato Carrefour e in una piccola parte del lato opposto. E per quanto riguarda i parcheggi, dagli uffici della città metropolitana rassicurano che gli stali di sosta che verranno sostituiti da marciapiedi e pista ciclabile verranno realizzati lungo i lati di via Maiorana. I lavori in totale dovrebbero durare circa 12 mesi, ma entro dicembre dovrebbe essere ultimata la rotatoria. Insomma, un lasso di tempo che potrebbe creare seri problemi alla viabilità, considerando che Viale Marconi è una delle strade più trafficate della città. Ma tal proposito spiegano dalla città metropolitana per consentire il regolare andamento del traffico, i lavori, in particolar modo quelli della rotatoria, verranno realizzati a sensi unici alternati per tratti di strada, secondo le indicazioni del Comune di Quartu.